La libertà è di essersi dimenticati forse troppo presto di dove siamo partiti anche noi perché sicuramente in Afghanistan è una guerra molto brutta e che dura da molto più tempo ma anche la guerra che abbiamo combattuto anche noi in Italia contro il virus è comunque sempre una guerra e oggi siamo riusciti ad avere la meglio su questo virus anche grazie ad alcune misure che arrivano dai vaccini a tutte le misure che conosciamo per evitare il contagio allora io credo che sia giusto tornare a andare ai concerti e mi pare che però ci sia una regola abbastanza precisa, il Green Pass che è uno strumento assolutamente non perfetto ma sicuramente che riduce di molto il rischio per cui si può tornare a fare le manifestazioni come si facevano prima con molte persone anche assembrate attraverso l'utilizzo del Green Pass e attraverso altre misure, la mascherina, il distanziamento e quant'altro. è chiaro che se poi si vuole fare liberi tutti beh allora vuol dire che non si è capito niente soprattutto non si è capito niente di questa nuova variante che è la variante Delta che ha la capacità di contagiare molto più facilmente di quanto facesse il virus originale oggi la variante Delta non è simile all'influenza dal punto di vista della contagiosità è simile alla varicella o al morbillo cioè parliamo di una malattia che è veramente facile passare da una persona all'altra allora abbiamo uno strumento che è quello da una parte del Green Pass ma che verte fondamentalmente sulla vaccinazione allora io mi sarei aspettato da un grande rappresentante della musica che piace molto ai giovani forse un messaggio di più sui vaccini e di meno sul liberi tutti ecco mi dispiace perché poi ci troviamo noi ecco ecco